Ciao bimbi, un bacione a tutti voi e vi abbracciano tutte le maestre. Oggi vi propongo il salame di cioccolato. Facciamo il salame di cioccolato. Vi faccio vedere gli ingredienti. I biscotti secchi 200 grammi, lo zucchero 30 grammi, cacao 20 grammi, burro 100 grammi e latte, un pochino di latte. Allora biscotti nella ciotola che dobbiamo sbriciolare, naturalmente le mani pulite mi raccomando. Io mi aiuto con il batticarne, voi fatevi aiutare dalla mamma un po' a battere il biscotti, qui, lo zucchero che ho già pesato e il cacao e giriamo. giriamo bene. Poi con le mani naturalmente pulite mettiamo dentro il burro. Burro temperatura ambiente, io l'ho tirato via dal frigo un po' prima e adesso impastiamo. E adesso aggiungiamo un po' di latte. E adesso aggiungiamo un po' di latte. salame di cioccolato. Io ho usato il cacao dolce, non il cacao amaro, il cacao dolce. Adesso in una pellicola, così avvolgiamo il nostro salame in una pellicola, in questo modo. Facciamo tipo caramella e lo mettiamo un freezer per tre ore prima di consumarlo. Ok? Poi lo tagliamo a fettine e si può mangiare. Buon lavoro! saluti da tutte le maestre a tutti voi. Ok? Va! Ciao!